Altre notizie E' stato presentato il 13 febbraio il quaderno didattico su Palazzo Lascaris dedicato ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni che partecipano all'iniziativa Porta Aperte. Il quaderno è pensato per permettere la rielaborazione degli argomenti incontrati durante le visite guidate a Palazzo, un approfondimento sulle funzioni del Consiglio regionale e un'esplorazione degli ambienti della storica dimora attraverso l'utilizzo di giochi, indovinelli, quiz e adesivi.